rispetto a Nocerino, però le caratteristiche del giocatore sono quelle anche di andare sempre a prendere palla, di sentirsi nel vivo del gioco Rosina che va via, due giocatori, alza la testa, serve a Quilani, sarebbe libero dalla parte opposta a Lodi, il passaggio per Pazzini si alza la bandierina del signor Borga, segnalare il fuori gioco, io avrei visto bene il passaggio a Lodi che era liberissimo a sinistra guarda c'era il passaggio per Lodi dall'altra parte perché arrivava da solo verso la porta però questa giocata di Pazzini, di Aquilani, per Pazzini, va bene anche così io non so se possiamo d'altra, ecco attenzione a Lodi si fuori gioco c'è, c'è sì perché era forse, era Defendi, non era Lodi